Ciao a tutti! Dai, ci stiamo avvicinando sempre di più a quota 80.000 iscrizioni qua sul mio canale YouTube, per questo vi ringrazio, vi invito sempre, appunto, a lasciare la vostra iscrizione qualora già non l'aveste fatto, a mettere un bel like e attivare la campanella delle notifiche. Oggi affrontiamo un argomento che, onestamente, avrei voluto analizzare già ieri, però ho preferito dare la precedenza alla cronaca, a ciò che potrebbe accadere sul fronte a Mattias O'Sullè, per cui, chi si fosse perso il video precedente, capisco perfettamente che ciò possa essere successo, in quanto ieri era una giornata di festa, essendo il 25 aprile, lo può ritrovare facilmente. Oggi, alla vigilia di Juventus Mila, proviamo a mettere un pochettino i puntini sulle i, perché sapete perfettamente quale sia il mio pensiero ormai da 3-4 mesi abbondanti su Massiano Allegri, ovvero credo che fisiologicamente si sia giunti al passo da Dio, in quanto la Juventus debba cambiare guida tecnica per dare forza al nuovo progetto marchiato a Cristiano Giuntoli, e, in generale, per aprire un nuovo ciclo, con una mentalità differente, con nuove motivazioni, nuovi stimoli da dare a tutto l'ambiente, non solo a coloro che frequentano quotidianamente la Continassa, ma anche agli stessi tifosi. Però, sempre ieri, ho letto degli editoriali ottimi, autorevolissimi, ho letto dei pensieri sui social che ora fanno la differenza, perché io l'ho capito proprio sulla mia pelle, nel senso, non vi nego che, per esempio, 4-5 anni fa, adesso non ricordo quando ho aperto il mio canale YouTube, non avevo voglia di farlo, perché ritenevo che l'autorevolezza di un giornalista si misurasse senza mischiarsi con le opinioni degli YouTuber e quant'altro. Niente di più becero, tant'è che ho conosciuto tantissime persone qualificate, YouTuber che hanno concetti molto chiari, anche quelli impopolari, ma c'è tanta qualità, basta saperla ricercare, e quindi la mia opinione è cambiata vivendo questo mondo. E nel 2024 le opinioni dei semplici tifosi sui social comunque hanno il loro peso, poi non devono condizionare le strategie di una società, altrimenti, soprattutto la Juventus, si rivelerebbe troppo debole, e le società forti sono quelle che se ne fregano dei tifosi, ma che però hanno sempre come metodo di giudizio, con la nuova era, anche i social come termometro per capire l'umore della piazza. Dicevo, ieri ho letto che in molti si sarebbero arrabbiati o si arrabbierebbero qualora Massiano Allegri dovesse decidere di prendersi un altro anno sabbatico interamente pagato dalla Juventus, essendo che con i bianconeri è un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2025. Perché? Cioè perché noi, da questo punto di vista, dovremmo arrabbiarci con Allegri? Piace o non piace il personaggio? C'è un contratto in essere, i contratti si rispettano, si onorano da una parte e dall'altra, e quindi onestamente se Allegri dovesse adottare un atteggiamento simile, a me sposterebbe poco. Non dobbiamo fare del revisionismo errato. In molti mi citano l'esempio di Marcello Lippi. Sì, fu molto coraggioso di mettersi in piena, diciamo, fine, sua era, primo ciclo da Juventus, ma non dimentichiamoci che Marcello Lippi sapeva già perfettamente che la stagione successiva sarebbe andato all'Inter di Massimo Moratti. Quindi c'era un'exit strategy già pianificata. Conto è di mettersi perché hai già l'idea, no? Di dove andare se non la sicurezza. Un altro è fare questo gesto e rinunciare a tot anni di contratto con annessi tot soldi. Senza nulla, cioè, senza voler poi puntare il dito contro Lippi, figuriamoci, sapete perfettamente quale sia il mio pensiero. Se ho avuto una bella adolescenza lo devo anche a Marcello Lippi, il mio tecnico preferito di sempre, ma la storia è quella. Qualcuno mi ha citato Maurizio Sarri. Maurizio Sarri effettua esattamente lo stesso comportamento adottato da Massiano Allegri una volta allontanato dalla Juventus. Ovvero, Sarri non allena per un anno, percepisce circa 7 milioni netti tutti dalla Juve, percepisce anche la penale affinché non scattasse il terzo anno di contratto con la Juve, perché ricorderete perfettamente come la Juventus, per prenderlo dal Chelsea, si espose per un 2-1. Poi, quello che ha fatto con Maurizio Sarri con la Lazio, chapeau, ma a noi non ci interessa, analizziamo, quantomeno in questo video, solamente gli avvenimenti storici rigorosamente a tinte bianconere. Ed è andato esattamente come vi ho detto. Ora, qualcuno vi risulta che abbia puntato una pistola alla tempia della fu dirigenza per sottoscrivere questo quadriennale con Allegri? No, no. È stata una scelta, forte, sbagliata, ma una scelta. E quindi, se Allegri dovesse decidere di non allenare per la stagione 2024-2025, io personalmente non gli punterei il dito e non gli farei l'asilo Mariuccia, perché fanno discorsi retorici. Cioè, voi rinuncereste così facilmente a 7 milioni di euro netti? Io no. Poi qualcuno può farmi la morale, però parliamo di persone già molto ricche, cosa vuoi che sposti loro, avere 7 milioni in più, 7 milioni in meno. Io non faccio questa fotografia, perché non faccio il fenomeno col portafoglio degli altri. Poi posso capire che eventualmente questa decisione darebbe fastidio, posso capire che darebbe fastidio in generale una Juventus che negli ultimi anni ha speso tantissimo per allenatori che poi non hanno allenato la Juve. Abbiamo Max Allegri, un anno pagato dalla Juventus senza allenare la Juventus. Maurizio Sarri, un anno più penale con la Juventus a non lavorare per la Juventus. Andrea Pirlo, un anno senza allenare la Juventus pagato. Lo so, questo darebbe molto fastidio, ma gli errori si pagano in tutti i sensi e quindi si possono fare tutte le colpe di questo mondo a Max Allegri, associargliele. E io sono il primo che da gennaio vi ho spiegato il mio punto di vista e niente. Ma mettermi qui a fare la morale su un contratto in essere e con i soldi degli altri, io non partecipo a questo giochino. Lo dico sinceramente. Poi è ovvio che la Juventus dovrà giocarsi le sue carte, che sono due. Quella più prioritaria, cercare una risoluzione contrattuale per risparmiare qualche soldino. L'altra, che non dipende dalla Juventus, è sperare che Allegri per la stagione successiva abbia un'altra panchina e che quindi ti consenta di risparmiare questi 20 milioni lordi, perché tra il contratto di Allegri e il suo staff è un costo per la prossima stagione di 20 milioni lordi. Ma anche qui a bilancio non sposta, nel senso, essendo un contratto già in essere, è già a bilancio. Quello che sposterebbe è l'ingaggio con annesso staff tecnico del nuovo allenatore. Mi correggano gli amici esperti di bilanci, di finanza e quant'altro, ma credo che sia così. A spostare è il nuovo costo, non questo. E questo speri di tagliarlo o di ridurlo con una risoluzione, come abbiamo detto prima. Però, amiche e amici, io non sono d'accordo su questo. Cioè, non gliene farei una colpa. La colpa è all'origine. E sottoscrivere un contratto quadriennale che è una roba fuori dal mondo, considerando gli usi e i costumi del calcio moderno. Ecco, quello è l'errore e su quello mi trovate perfettamente d'accordo. Così come mi trovate perfettamente d'accordo sul fatto che la Juventus debba per forza, per forza, e dico la terza volta per forza, a cambiare guida tecnica al termine della stagione. Ma se Allegri dovesse decidere di beccarsi fino all'ultimo centesimo e di rimanere fermo un anno, quantomeno su questo canale non sentirete fargli la morale nella maniera più assoluta.